Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark House 92 Oggi siamo qui per completare la missione cerca nella direzione in cui sono rivolte le teste di piede Ovviamente vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, il mio italiano oggi fa pena E lasciare un bel like al video per questa guida E che dire ragazzi, ci vediamo direttamente in game Bella Ah, scusatemi, sono sempre i compagnini del signor NICO CAPO Che non saluta Ah, ecco, salutato, ha scoppio ritardato Bella, ci vediamo in game raga, bella, 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 bella Quante volte ho detto bella, bella Eccoci qua ragazzuoli, finalmente nel punto esatto delle tre teste Quindi il punto centrale dove guardano le tre teste È precisamente nella montagnetta prima di Borgo Bislacco Quindi qua, precisamente qui dove c'è il punto mio è quello di NICO Ok ragazzi, questo è il punto preciso dove poter trovare la stella per concludere la missione Io vi ringrazio per aver visto questo video guida Tutto per voi ovviamente Un bacione in mezzo della vostra TACAOS92 E ci vediamo ad una prossima guida O ad un prossimo video Bella raga GG Abbiamo finito la missione Yep Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti